Amici del Valle di Sport, bentornati! Oggi sono qui per presentarvi una stupenda novità di Shoei NXR2, il loro primo casco racing con la nuova certificazione EC2206 che significa un standard qualitativo altissimo per superare le nuove normative. La nuova calotta è stata rivista e migliorata in tantissimi punti. Ci sono varie nuove sfasature dove è stata studiata in Galleria del Vento e c'è una diminuzione notevole delle turbolenze e dei frusci. La visiera è predisposta del nuovo Peel Look Maxi Visor che aumenta tantissimo la parte laterale della visuale quindi negli spostamenti di testa avrete una visuale totale, laterale. Sono stati aggiunti questi più lini che è un sistema adoperato nel modello di punta Xperia 3 che eliminano e bloccano il flusso d'aria che può creare turbolenza. La sicurezza attiva è aumentata notevolmente grazie all'aumento del 30% della diffusione dell'aria del casco grazie a tre grandi prese d'aria frontali della fronte, mentoniera e un grande estrattore di calore posteriore. Sicurezza attiva vuol dire che sarete più lucidi ovviamente grazie alla maggiore freschezza e avere un casco più asciutto quando sarete sotto sforzo. Quindi è stato studiato veramente nei minimi dettagli. In confezione trovate nasello, golletta antiturbolenza per la parte sotto e il maxi visor già compreso in confezione che è il pin look anti appannamento che potete applicare nella visiera. Come il modello precedente abbiamo tutta la fodera estraibile facilmente riconoscibile anche lo sgancio rapido in caso di sicurezza e qui vediamo le tre grafiche principali appena arrivate in anteprima una cosa più divertente che ho qui in mano una grafica un po' più dark e questa colorazione che hanno dedicato un po' più al mondo caffè racer Bene ragazzi, tutte le novità le trovate nel nostro sito valerysport.it per qualsiasi domanda messaggio in posta privata o info.valerysport.it Grazie, alla prossima! Grazie